Musica Potente appara ragazzi qua Axel, oggi è il mio canale, oggi sono da sole e sono qui a presentarvi questo terzo episodio della serie Axel's Road to Glory Perché infatti ragazzi per gli iscritti un po' più attivi, io cosa avevo fatto all'incirca un 3-4 mesetti fa? Avevo iniziato un Road to Glory normale normale su questo mio primo canale che avevo intitolato Axel's Road to... Axel's RTG che appunto sta per Road to Glory Solamente cosa è successo? Avevo iniziato abbastanza bene facendo due episodi, mi sembra in una o due settimanelle Ma poi c'è stato il degrado, non ho più caricato niente, ma perché? Perché io gli episodi li avevo sì registrati, ma poi come voi ben sapete ho avuto quel piccolo problema di spazio al computer E cosa è successo? Mi si sono persi, quindi si sono cancellati tutti improvvisamente Poi non dico che ho perso voglia, ma non avevo veramente tempo di farlo E ora che c'è estate, che non dico tanto proprio, anzi no, meno del solito Comunque ho trovato del tempo per appunto registrarvi questo nuovo episodio E quindi eccomi qua a presentarvi questo terzo episodio dell'Axel's Road to Glory Per iniziare volevo ricordare come sempre di passare da FIFA con Stess E se state vedendo una squadra un po' diversa dal secondo episodio Questo appunto perché c'è un episodio che appunto non ho caricato per appunto a causa dello spazio insufficiente sul computer Nella quale avevo disputato tre partite, le avevo vinte tutte E con i crediti guadagnati avevo comprato Adler in porta e Socrates come primo difensore centrale Poi la squadra è sempre quella, perché infatti a fine del secondo episodio avevo comprato Alan Un'altra cosa, in questo episodio andrò a fare dei nuovi acquisti, questo perché, o meglio come sono riuscito a farli Perché infatti io su questo episodio, no scusate, su questo account avevo appunto iniziato FIFA World Cup Iniziando l'avevo appunto spacchettato e mi sono dati, o meglio mi ha regalato i crediti da 5k appunto sull'altimetti normale E io per fare dei crediti, per accumulare altri crediti appunto e per poi andare a comprare altri giocatori Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di aprirne un po', ma non poi di vendere ciò che trovavo dentro Perché alla fine tenevo solo i contratti rari se non mi sbaglio Poi quegli allenatori e alcuni stili d'intesa Perché infatti tutto il resto dei giocatori, ovviamente se valevano ed erano buoni, li tenevo Se no li andavo a scartare per fare all'incirca 1000 crediti a pacchetto Adesso non mi ricordo quanti ne avevo disponibili, mi sembra fossero 34 Quindi pensate un po', 34.000 crediti proprio da usare velocemente ecco Perché poi cosa ho fatto? Con i crediti appunto ricavati sono andato a comprare un'ala destra Team of the Season Che è Campbell Perché infatti se voi vi ricordate io su quest'account volevo costruire una squadra molto forte O meglio abbastanza forte Che però non usavano in tanti con dei giocatori abbastanza inutilizzati Adesso ovviamente sui milioni di persone che giocano a FIFA Ovviamente qualcun altro li utilizzerà Però comunque non sono i soliti giocatori, quali Barbo o che altro Perché infatti avevo deciso di concentrarmi sulla appunto Bundesliga Ma soprattutto su una squadra che gioca in quel campionato Quale l'erbista Lisburgo Che per me è il top come squadra È una squadra veramente forte Infatti come alla destra utilizzavo Campbell Come ATT Alan E come alla sinistra il peruviano Che adesso non mi ricordo il nome Comunque in questo episodio vedrete solo una partita Perché infatti ho deciso Dato che appunto era da Macello che non lo facevo Non volevo portarvi subito tante partite Piuttosto vi carico molti episodi Anche perché tra poco partirò E devo avere più video disponibili Ecco qua Carpederò il DM Faccio il carpediem E appunto vi caricherò molti episodi di questa serie Sperando che ovviamente vi piaccia Come fate a farmi sapere se vi piaccia o meno Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Comunque in quest'unica partita Stragerò proprio il mio avversario Che mi sembra che qui ti vinco tipo 5 a 0 Dimostro la mia potenza Anche se ultimamente faccio abbastanza schifo Infatti meno male che su questo account le vinco Perché sull'account mio principale Quello l'exato Le perdo praticamente tutte E ciò non va bene Noi lo sappiamo che non va bene Comunque altre cose da dire Non ne ho adesso Esattamente tornando Mi ricollego un attimo al discorso di prima Non so quando caricherò questo video Perché infatti domani partirò Domani è il 13 luglio E mi salterò la finale Perché sarò in volo Pensate un po' che è magicata Infatti quando l'ho saputo mi è salito Alla grande è il crimine E poi ovviamente vi volevo come sempre ringraziare Ringraziare per tutto il supporto che mi state dando Che è il top È il top Comunque andiamo a vedere gli ultimi due acquisti di questo episodio Prendo il terzino destro Klein anch'esso del Salisburgo Della appunto Bundesliga Ma non solo Perché io questa squadra voglio Voglio ibridarla ancora di più Perché infatti vado a prendere un centrocampista centrale Della Bundesliga Quindi mi darà intesa a Socrates Adesso Austriaco Quindi c'è proprio l'intesa è massima Che di chi sto parlando Di uno con il nome stra-ambiguo Baumgartlinger del Mainz Che ho pagato all'incirca 350 crediti Quindi anche abbastanza poco Che però devo essere sincero È forte È veramente forte Credo che tutti e voi tutti abbiate i crediti per provarlo Quindi se volete provatelo Se volete provatevi anche questa squadra Ora non è finita Infatti presenta all'incirca un'ottanta di intesa Ma vi posso assicurare che il progetto è ampio Il progetto è veramente grande Quindi aspettate Che nei prossimi episodi Spero che la squadra si evolva Per fino a diventare Il top Il top dai top E quindi ragazzi Detto questo Io non ho niente da dire Quindi vi saluto Vi ringrazio come sempre Tutti il support che vi state dando Dimostrate Fatemi vedere che questa serie vi piace Se non vi piace Scrivetemi in te altre serie Vorreste vedere sul mio canale E quindi Detto questo Mi raccomando Se avete un'ultima cosa Vi porterò anche ovviamente vlog Dato che sono in vacanza E l'unico video che posso fare è il vlog Quindi detto questo Io vi saluto E vi dico potente A presto In dal prossimo video Bolla Ciao